Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovata l'appuntamento col Biancherosso di B-Sport sempre insieme, quanto mai insieme, perché d'estate bisognerebbe tirare un po' il fiato, un po' tutti dovremmo tirare un po' il fiato, ma qui stiamo lavorando più del solito perché c'è una trattativa in corso, una trattativa che comincia a essere lunga e faticosa anche per noi, perché ogni giorno ha la stessa storia, sabato, 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 quanti sabati sono? Salvatore e Guastella che ci dicono che è quello decisivo, intanto saluto il mio ospite. Salve, buon pomeriggio, ciao Renzo, cominciano a diventare tanti, però dobbiamo sottostare. A furia di rimandare sabato, sabato ci ritroviamo all'inizio del campionato, che di sabato insomma. Quanto meno siamo a ridosso della partenza per il ritiro, se andiamo avanti così, però dobbiamo sottostare a questa che è una trafila, ripeto, un po' lunghina, però non è una trattativa facile, come ho già detto e ci ripeteremo sempre, non è la compravendita di un'automobile, qui ci sono tante altre cose dietro e sotto, devono essere molto molto precise e chiare, quindi speriamo che questo sia veramente l'ultimo sabato d'attesa e dopodiché poterlo parlare. Oggi su qualche giorno l'ho detto sabato o lunedì, probabilmente qualcuno deve andare a male, le due parti deve andare a male a fare il secondo weekend. Non lo so se c'è una qualche già viaggio organizzato. Proviamo a riderci sopra perché è una delle poche cose che ci viene, costo caldo tra l'altro, il cervello comunque fa ragionamenti strani. L'impazienza è tangibile dappertutto. Ricordiamo che la proposta di Montemurro, formalizzata, scritta, con punti virgole, è arrivata ai legali di Matarrese, visto che c'era stato un leggero ritardo, ma non avevamo dubbi che questo sarebbe accaduto, adesso vedremo cosa risponderà di Matarrese. A me fa ridere un po' sta cosa perché si parlano da settimane intere, però stiamo ancora a parlare del prezzo. Io credo che se io voglio comprare quella maglietta, Salvatore, ti dirò subito quanto vale sta maglietta. Tu mi dirai totte e io farò i miei ragionamenti o no? Sì, ma ripeto, qui non conoscendo tutti i particolari che non devono essere neanche di poco conto che farciscono questa trattativa... Ma almeno il prezzo. Il prezzo sì, io credo che il prezzo è come corrispondere alla cifra, quello credo che sia il minimo. Credo che ci siano altre cose, sono venuti altri più esperti di me da un punto di vista di gestione societaria, che hanno più voce in capitolo. Ma tu ci pensi che i primi di Matarrese dicono che il prezzo non va bene? Noi stiamo parlando di investimento e niente, voglio dire. Allora, in questo momento sappiamo che può accadere tutto il contrario di tutto. Perché di fatto credo che le uniche due firme che sono state apposte su documenti siano quelle del patto di riservatezza, da entrambe le parti. Per il resto, da quello che so io, non credo che ci siano altre firme apposte su nessun altro documento. Quindi dobbiamo aspettare, speranzosi, che tutto vada come tutti si auspicano e poi ricominciare. Però, insomma, adesso non vorrei essere io a dire una parola di troppo inutile, però insomma, di cominciare anche a fare un po' presto perché i tempi cominciano a restringersi decisamente. Nel frattempo Angelozze Milano sta definendo le compartecipazioni, insomma, l'ideale sarebbe congelarle, in che senso rinnovare le compartecipazioni e poi dopo l'eventuale ingresso di Montemurro decidere che fare di certi giocatori. La prima compartecipazione sulla quale si è trovato in accordo con il Chievo per il rinnovo riguarda Nicola Bellomo. Lui se la spassa in verità, Nicola in questo momento è distante dai problemi del Bari perché da Facebook Cristian Siciliani ci fa vedere dov'è Bellomo, l'avevamo già anticipato in qualche modo. Riusciamo a vedere questa fotografia? Sì. Dice poco questa foto, però sono in Brasile. Lui del Core, lo ricorderai, ha giocato nel Catania, barese anche lui, sono in vacanza in Brasile. Io avrei venuto a vedere una fotografia sulla spiaggia di Bellomo, versione Neymar, vecchio stile, con i capelli, con la cresta bionda. Insomma, l'avrei visto volentieri a Copacabana o chissà dove altro, però evidentemente sembrava una palestra quella. Sembrava una palestra o un campo di quelli al chiuso, sai quei campi da minicalcio a due, non può essere un campo del genere. Prendiamo la telefonata, pronto? Enzo. Ciao. È tutto, ma c'è... Devo dire che hai ragione, devo dire che hai ragione, devo dire che hai ragione. Che confusione, sabato, l'altro sabato, sabato pro, sabato chiedi, tra due sabato. Ma che confusione, è tutto, ma c'è non si capisce più niente, siamo stufi. Eh, va bene, siamo stufi, va bene, va bene. Bisogna comprendere, questo tifoso riassume un po' quello che è un sentimento collettivo. Certo che a Bari ormai è passata la linea chiara e tonda che comunque si aspetta, ma si aspetta il passaggio di consegna. Non so se tu lo percepisci parlando con la gente in giro per la città. Io lo percepisco, ma poi, ripeto, sono le manifeste dichiarazioni che ha fatto Antonio Mattarese, c'era anche tu quando l'ha fatto, insomma ha detto chiaramente che la famiglia non vuole più avere... Anche se non sono una novità in assoluto queste dichiarazioni. Sì, le ha, sono, trite, ritrite. Adesso hanno un senso più forte perché c'è una trattativa. Sì, perché l'interlocutore mi sembra certamente, decisamente molto più credibile, più serio, più motivato, più tante cose rispetto a tutti quegli altri, non voglio aggiungere aggettivi che non sono certamente positivi, che si sono affacciate fino a ora per poter rilevare la società. Quindi, sposandosi le due voglie di queste due entità, insomma, Montemurro e Mattarese, ancor di più è avvalorata l'ipotesi che questo passaggio di consegne, tanto auspicato, possa avverarsi a questo punto di pochi giorni, mi auguro anch'io. Ed è, sarebbe, insomma, una svolta epocale per il calcio a base. Sono 36 anni, sono veramente una reggenza lunghissima che nel calcio italiano non è uguale. C'è una microlinia, pronto? Sì, ciao Enzo, Michele. Ciao Michele, ciao. Beh, l'argomento principio è proprio questo, cioè, quando posticipare, posticipare, non ci troviamo a gennaio. Cioè, questo vuol dire proprio alimentare la rabbia, veramente la rabbia, perché è un parto, guarda, è meno doloroso, molto meno doloroso. Quindi è palese, a me dispiace smontare tutta questa allegria che c'è dietro, una notizia che arriva o non arriva. A me dispiace, ma sappiamo benissimo che è una strategia questa dei Mattarese di allungare i tempi, allungare i tempi dove un Montemurro si deve stancarlo e deve mandare a quel paese. Questa è la tua previsione, insomma. E io sono la persona più felice di questo mondo, io sono la persona più felice, però, voglio dire, finiamola qua, perché veramente continuano a prenderci in giro anche con una trattativa seria. Non ce la fai più, va bene. Qualcosa di più grande di loro, forse non pensavano che arrivasse uno veramente con le palle che si interessasse. Va bene, grazie per il tuo intervento. Certo che, diciamo, la tenacia di Montemurro è sotto gli occhi di tutto, lo vuole il Bari, insomma, mi pare che ci siano pochi dubbi su questo. Infatti io lo definisco, ripeto, la persona più credibile rispetto a tutti quegli altri che fino ad ora si erano affacciati quantomeno come vogliono. Una trattativa un po' diversa dal solito, perché paradossalmente è come se i Mattarese stessero trattando con la città, nel senso con i tifosi, perché in questo momento Montemurro, io credo che era presente in qualche modo, per carità, imprenditore, però è un tifoso tipo del Bari, una cosa che non si era mai verificata nelle altre trattative, parlavamo sempre di imprenditori, chi veniva da fuori, chi era intorno di Bari. C'è una spinta emotiva molto forte, appunto, che è dettata dal fatto che è un tifoso. E poi un'altra spinta, credo che l'abbiano dato il movimento che si è coagulato intorno allo tsunami bianco-rosso, all'accolta delle film, a far vedere che, insomma, il Bari non è lasciato al proprio destino, come dire, in mezzo all'indifferenza della città. Quindi anche una piccola spinta, probabilmente l'ha dato anche questo, il fatto di vedere che ci sarebbe entusiasmo nuovo rispetto a quello che c'è stato fino ad oggi, se ci dovesse essere un'altra società, un'altra presidenza alla guida della squadra, probabilmente ha dato qualche spinta in più a farlo insistere, a capire se è in grado, se può prendere, se è eccedibile la società. Fino adesso mi sembra che i passi siano stati fatti, però non conoscendo i particolari. Tu so che è un dubbio, ma l'hai manifestato già un'altra volta a proposito delle modalità di pagamento e qualche perplessità, è vero? No, io ho semplicemente detto, e qualcuno mi ha anche, come al solito nel noto sito di Facebook, che insultano dietro una tastiera vigliaccamente. Io ho detto semplicemente che se l'ostacolo principale è quello di come corrispondere questa cifra, mi sembra che stiamo parlando di lana caprina, perché i soldi si possono far arrivare, chiaramente con uno sforzo maggiore, probabilmente, sicuramente, alla società in contanti o nella mia ignoranza in materia finanziaria, chiedendo e dando le garanzie a un istituto bancario, insomma un pool di istituti bancari, e non offrendole semplicemente eventualmente ai cedenti, quindi che ripeto, sempre con le dovute proporzioni, è come se io decido di acquistarmi un appartamento, faccio il mutuo, a tu che mi vendi l'appartamento i soldi ti prendi subito, poi sono problemi miei come liberarmi del mutuo. Ecco, solo questo ho detto, mi hanno detto che non capisco niente, sono ignorante, gli interessi sono molti di più, ho capito, non sarò un esperto, però se questo fosse l'unico ostacolo sarebbe facilmente aggirabile o sormontare. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Daniele. Ciao Daniele, ciao. Enzo, una considerazione mia che appunto correggimi se sbaglio, solamente una considerazione e non un'affermazione, di regola a meno, come la politica, ogni società ha il suo pupillo di giornalisti, appunto per gli articoli, secondo te, la nostra società, chi potrebbe prendere come braccio destro di giornalisti? Appunto, perché un articolo fa molto. Grazie, ciao. Allora, una società si dota di una detto stampa, la detto stampa diventa il portavoce della società, la detto stampa non può avere spirito critico, per intenderci, non può parlare contro la società, a quel punto diventa il megafono delle iniziative della società, quindi insomma, io giornalista che possa avere un parere, può essere critico o meno critico, ci può anche stare, ma se uno decide di sposare in pieno la causa della società, a mio avviso è giusto che ambisca ad un ruolo da detto stampa che io confermo non farò mai nella mia vita perché smetterei di divertirmi a fare questo mestiere, perché a mio avviso la possibilità di essere critici, di dirla tua, è quello che alimenta il mio lavoro quotidiano. Obiettivamente la detto stampa lo faccio ma per manifestazioni sporadiche, non so, un campionato italiano di canottaggio, quello faccio io, insomma, come ha detto stampa. Per il resto, la detto stampa che lavora sistematicamente nella scuola di calcio diventa né più né meno che il megafono delle iniziative del club, che francamente non è la mia ambizione professionale, quindi insomma, se mai dovesse arrivare Montemuro il posto è sicuramente… io non ho velletà, non ho chance, non ho, come dire, non manifesto la mia candidatura, non mi interessa, tanto per intenderci. Allora, abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno Enzo, sono Marco, saluto anche Salvatore. Ciao, ciao Marco. Io ho un'idea per quanto riguarda la durata di questa estenuante trattativa, cioè o i matarese stanno cercando di mettere nella maggior difficoltà possibile il futuro acquirente in maniera tale che abbia problemi nel far meglio di loro, anche se lui forse non si rende conto che è molto facile far meglio di loro, oppure veramente questo è l'ennesimo schiaffo che stanno dando a noi perché ci vogliono far tenere proprio il fiato sospeso fino all'ultimo e in ultimo io continuo a pormi un quesito, anche Salvatore è uno di quelli che la pensa diciamo solitamente diversamente da me, anche poco fa diceva che questo era un acquirente un po' più serio degli altri, però io continuo sempre a chiedermi tutti questi buffoni chi li ha portati a Bari e perché sono venuti a Bari, io continuo a non capirlo. Tim Burton l'ha chiamato per venire a fare quella recita qua, di certo non l'ho chiamato io. Buona giornata e forza a Bari a tutti quanti. Ciao, insomma ipotizzare che addirittura i matarese chiamino qualcuno, mi sembra di leggere fra le righe queste, insomma allora davvero siamo alla truffa, insomma e se fosse vero sarebbe una truffa i danni di una città, però francamente lo escluderei. Credo di aver detto molto più serio e non un po' più serio, ho detto molto più serio, se l'ho detto un po' più serio mi corrego, uno, due, non lo sapremo mai purtroppo. Però posso dire una cosa, qualche interlocutore, qualche interlocutore lo conoscevo anch'io ad esempio, Cazzanini è uno che fa affari con imprenditori di tutto il mondo, non è che parliamo di pizze fichi fondamentalmente, che poi uno voglia farla fare avvicinandosi al Bari, a mio avviso è sbagliato anche l'approccio con il quale si mette in vendita il Bari come se fosse una società in difficoltà, adesso lo è in difficoltà. Adesso sì, ma quando ti riferisci a quel periodo Enzo, non era così, in quel periodo c'era un dissenso tra tifoseria e società e chiunque si avvicinava pensava di poter liberare di questo fardello, come se fosse un fardello la società, probabilmente offriva delle cifre decisamente inaccettabili, è come se io litigo con tutti i condomini del mio palazzo e arrivi tu e mi diceva, siccome tu litighi con tutti, battene del tuo appartamento di 50.000 euro, ne vale magari quattro volte, che fai, non lo fai tu? Quindi in quel periodo c'era questo probabilmente, adesso invece le cose sono ben diverse, adesso c'è anche il fatto che si siano stancati loro, vogliono liberarsene, non lo so. Allora ci rimprovera una volta di essere una trasmissione troppo maschilista, o meglio troppo al maschile più che maschilista e di non far vedere mai tifose al femminile. Cristian Siciliani, qui mostriamo subito la foto che non è maschile, non è proprio come lo descrivi. È un esteta, ci fa vedere chi è Miss Confederation Cup, non so se in qualche modo abbiamo ripagato la curiosità. Mi dici che si chiama Alina Bernardes ed è Miss Confederation Cup, ragazzi, questa è Miss Confederation Cup, che voglio dire, a voi l'ardo sentenza, pubblicità, poi torniamo insieme con il bianco e il rosso di Bisport.